In diretta dal convinto d'annunzio a casa dei giovani del Pescara con il responsabile dell'area tecnica bianca azzurra Giorgio Repetto. Allora a te Massimo, a te Giorgio. Sì, sì, grazie, grazie Carmine per la linea in compagnia di Giorgio Repetto. Un piacere ritrovarti. Giorgio come stai intanto? Bene, bene, bene. Benissimo direi. Adesso benissimo dopo quello che stai. Ah, vabbè, ma tu dici a livello, sì, meglio, meglio ancora, anche se ero già contento di quello che avevamo fatto. Stagione, io l'ho sempre detto, mi assumo tra virgolette la responsabilità di ripeterlo, stagione già da incorniciare. Adesso ci potrebbe essere la classica ciliegina sulla torta, non andiamo troppo avanti, però insomma il Pescara è già in semifinale. Vabbè, già questo è un premio a quello che ha fatto la squadra durante il campionato e a quello che ha fatto anche la società, perché alla fine se non abbiamo avuto mai un punto di penalizzazione, non hanno mai avuto nulla contro il Pescara, vuol dire che c'è sempre stata un'amministrazione sana, quindi è una nota di merito anche quella. In più ci metti che l'allenatore e la squadra hanno fatto, quando dico allenatore chiaramente intendo tutto lo staff dai magazzinieri in su, e credo che abbiano fatto qualcosa di molto positivo. Assolutamente. Giorgio, la squadra si sta preparando alle semifinali play-off, si giocherà sicuramente? Quali notizie avete? Sicuramente in Italia è un termine un po' difficile da usare, specialmente quando ci sono delle beghe pseudo-legali. Io credo di sì, perché ieri è stato diramato questo comunicato, credo che anche se sicuramente faranno ricorso, però se c'è stata questa decisione, io credo che almeno fino a domani dovremmo aspettare per avere proprio l'ok definitivo. Dunque il Pescara affronterà la vincente tra Verona e Perugia. Come sta la squadra? Perché ha preso consapevolezza, intanto c'è un progresso direi tangibile anche sul piano della condizione fisica, no? Ma io mi sembra abbastanza evidente in queste partite, si è avviso che la squadra ha retto bene, ha finito sempre molto bene le partite, sia col Verona, sia a parte il rigore che poi ho rivisto in televisione, anche di Venezia l'ultimo, abbastanza discutibile perché era più un fallo di sfondamento che un fallo di scognamico, però abbiamo finito benissimo anche domenica scorsa. Hai usato un eufemismo discutibile, non è da te. No vabbè, sto migliorando con la vecchiaia, ma domenica abbiamo finito bene, abbiamo segnato negli ultimi 10-12 minuti, quindi mi sembra che la squadra stia bene. Poi è chiaro che abbiamo avuto molti intoppi di lunga durata, diciamo, perché ci si è fermato, se mi viene in mente, non so, Brugman per un po' di partite nel giorno di ritorno, la stessa cosa a Canutè e abbiamo perso Melegoni per un fortuno gravissimo e quindi siamo rimasti con pochi giocatori a metà campo, il mister soprattutto aveva difficoltà. Ci sono due vantaggi, il fattore campo è stato un fortino quest'anno lo stadio triatico Giovanni Cornacchia, dei 55 punti conquistati, 38 ottenuti proprio davanti al pubblico amico, ma anche il vantaggio della classifica. Beh, questi sono vantaggi indiscutibili, è vero, e devo dire che la soddisfazione con la squadra che ha disputato il campionato è stata proprio quella di aver regalato molte soddisfazioni in casa alla gente che veniva allo stadio a vedere la partita, perché insomma, vincere non è mai facile contro chiunque, dall'ultima in classifica alla prima, la squadra è riuscita a vincere moltissimo, in più avere il vantaggio di poter giocare per due risultati, è chiaro che ce lo prendiamo tutto. Non c'è dubbio. La notizia di oggi è importante, perché è vero, Capone e Bettella sono stati convocati dal CT, dalla Nazionale Under 20 per gli imminenti mondiali, il CT Nicolato, ma Bettella resterà a Pescara, farà i playoff qui. Sì, sì, c'è un buon rapporto tra la società e la federazione, l'Under 20 in questo caso, ma anche con tutto il resto, e l'accordo che è stato preso tra il Presidente e chi comanda lì nell'Under 20 è questa. Bettella è convocato, ma rimane a Pescara, gioca con noi. Se ci sarà l'occasione, la possibilità, speriamo di no, a noi non serve, potrà andare a irrobustire la rosa di Nicolato. Noi speriamo di non doverglielo dare, perché vuol dire che andiamo avanti noi. Nessun rischio quindi di perdere Sottile, Antonucci? No, 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 abbiamo chiesto. La concessione ha trovato una via di mezzo il Presidente con la federazione. Uno è andato, un altro è convocato, ma rimane qui e gli altri due sono rimasti qui. Non c'entra nulla in questa opera di mediazione, Giorgio Repetto? No, 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 non c'entra niente perché è stata la cosa diretta tra società, Presidente e federazione. No, te lo chiedo perché siccome Pillon ha parlato di te nell'ultima intervista che stavi lavorando. Sì, vabbè, ma io delle volte faccio finta di lavorare. Ho capito, bella questa, eh? Niente male. Senti, Giorgio, semifinale, Pescara-Perugia o Pescara-Verona? Secondo te? Sera me ne me ne frega un cazzo. Ma, vabbè, fuori dei denti. No, vabbè, che ne è la tua previsione? Ma io la previsione non te la so. L'uomo di calcio? No, di calcio no. Profondo conoscitore. Facciamo finta. No, non lo so. A noi questo quarto posto ci va bene, chi ci capita ci capita, sicuramente non sarà una partita facile con nessuno. A proposito, l'ultima, la devo fare perché Pillon ci ha dato una notizia a fine partita, dopo Pescara-Salernitana, se vinco il campionato c'è il rinnovo automatico. Ti sapevi qualcosa? Sì, l'abbiamo fatto, no, l'altra Camera, non in questo. Beh, no, lui ha un contratto per la Serie A, in caso di Serie A ha il contratto, il contratto ce l'ha, poi ha detto una verità, quindi è assolutamente vero. L'ha fatto l'anno scorso e quindi diciamo che i più ottimisti del gruppo erano lui e il presidente, perché hanno fatto un contratto che prevedeva la Serie A, vuol dire che erano i più consapevoli che si potesse fare un buon campionato. Tu sei una botte di ferro perché hai due o tre anni di contratto. No, 22. Ah, 22 anni di contratto. 22, 22. No, ce n'è ancora un altro. No, fino a Camorte non ci separi. Io spero di averlo interpretato così, forse l'ho un po' esagerato. È stato come sempre un piacere, grazie a Giorgio Repetto. Aspetta se c'è una domanda dal nostro direttore. No, grazie, cosa aggiungere? No, perfetto, perfetto. È stata sufficiente così la conversazione con Giorgio. Grazie ancora, in bocca al lupo per questo finale di stagione che si preannuncia davvero avvincente. Grazie. Grazie e saluto anche Carmelo perché sta dall'altra parte. Ciao, arrivederci.